Grinna, hai appurato la maggiore età? Rubino, 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 ti devi capire che io... No, per dire, per dire. Vabbè, è così rilevante al giorno d'oggi? Sì. Allora, ciao, io sono Agnese, sui social mi chiamo Lasagna. Maggiorenne? No. Perfetto, non parlerò mai con te. Quante anni hai? 17. Anch'io, ok, top. Perfetto, parlerò solo con Natalia. E con me? Rubino, sarà una certa meteo. Aspetta, c'è una persona che vuole entrare che non so chi sia. Miss Marta, sto... Ciao, Marta! Ciao, amore, ma... Carlotta, posso farti una domanda che ci terrei molto a chiarire una cosa? Ma sei maggiorenne? Manca un annetto, più o meno. Scusami, mi scuso con tutta la chat, allora. Non parlerò mai con Marta per un anno. Non parlerò mai con Carlotta. Rubino, cioè nel senso... Ma perché tu invidi solo minorenni, Simone? Scusami. Ma cosa? Lei è maggiorenne? La Natalia. Ma è maggiorenne. La Natalia, ormai... È maggiorenne, è mai... Posso andato fare qualche domanda, Giulia? Perché io non la conosco benissimo. Come, come? Vai, vai, vai. È maggiorenne, te lo dico. È strano per te, è strano per te lo dico, Simone. Eh no, infatti, sono un po', sono un po', infatti, così, sviato. Rubine, rubine. Ti devo fare una domanda, scusami, Simo, te lo sai. Vai, prego, prego, prego. La signorina... Alessandra. Alessandra. Una domanda classica per spaccare il ghiaccio, no? Capito. Dimmi, dimmi. Ma sei maggiorenne? No, 17 anni. Oh, te mi hai rotto il cazzo, Simo, non è possibile. Non è possibile. Ma scusa, io ho 19 anni, potrò portare in ospiti. Vabbè, ma poi avevo 18, Simo, ma tu sei sempre di 17. Non so se conosci Davide Rubino, no? No. Non hai mai avuto il piacere di conoscerlo? 19 anni, esisti, giusto? Esisti, credo. Credo tu esista. Sì. No, perché lui ha una filosofia abbastanza particolare, nel senso che una ragazza sotto i 18 anni per lui non esiste, perché lui comunque è di un'età più avanzata della nostra, anche io ho 19 anni. E lui ha un'età molto più avanzata di noi, quindi... Quando una ragazza è più piccola, lui di base non la conosce... Cioè, è come se non esistesse, è un po' come se fosse fuori dai radar. Vi piace come format? Siete... Sì. Possiamo dire la novità di oggi? Sì, sì, Davide, dimmi. La novità di oggi? Che sono tutte maggiorenni le ragazze. E lo so, chat, è strano. Non so perché. È strano, però è così. Simone, al cortesia, dai. No, vabbè, cosa posso... Comunque io non ho detto nulla, io non ho detto nulla. Per me l'età non è solo un numero, visto che Simone invita solo minorenni. Non è vero. Ma come non è vero? Ma la prima live dove erano tutte maggiorenni è stata l'altra volta. Che non chiariamo, per me, Rubino non esiste. Però... Ma pensiamo a noi due, che ci frega di Rubino? Ma basta sto cazzo di Rubino di merda, ma pensiamo a noi due. No, io io pensavo a Rubino. Ah, come tu vuoi pensare a Rubino? Non vuoi pensare a me? No. Tu non mi vuoi. Come no? No. Sono stato rubinato, scusami. No, non posso essere... No, non voglio che questa clip vada come Greenbot è stato rubinato, per favore. Invece sì, è proprio così. Cioè tu mi stai affermando... Io ti aiuto a te, io ormai sono due anni che sto cecchinato, io sto col cecchino. Ah, Rubino, Rubino. Io ormai, a parte, tu invidi sempre minorenni, quindi... Non è minimamente quello. Ti presento una ragazza che è una tiktoker, che ha detto che comunque gli piaci. Ciao, un piacere. Ciao, Sofia. Posso fare la solita domanda mia? Vai pure. Ma quanti anni hai, Sofia? 17. Ah, scusami, non è per te. Grinna, mi hai rotto il cazzo. Simone, hai rotto il cazzo. Perché ti soffermi al 17, tu? Perle in diretta, bellissimo sto profilo, piccolissimo.